Ciao biotruccose e biotruccosi, benvenuti in questo nuovo tutorial in cui faremo insieme imparandolo il massaggio Gua Sha con la lingua di Giada. Applichiamo su viso e collo dell'olio di sesamo che è molto leggero e non comedogeno. Per questo trovo sia molto adatto per effettuare i massaggi al viso in particolare. Lo scaldo tra le mani sfregando i palmi e lo massaggio delicatamente sulla pelle. Questo tipo di massaggio con la pietra di Giada ha numerosi benefici per la pelle, principalmente svolge un'azione lifting, ma è anche drenante, stimola il sistema linfatico nell'espulsione delle tossine, rende la pelle luminosa, calma le infiammazioni ed è adatto anche a pelli problematiche. Nell'info box vi lascio i link dei prodotti che utilizzo. Iniziamo da metà viso, poi faremo l'altra metà. Prendiamo la lingua di Giada dalla forma a cuore e la ruotiamo usando la parte concava. La facciamo passare sul collo dal basso verso l'alto. Bisogna esercitare pressione. Non preoccupatevi se avvertite fastidio. È normale. Per ogni zona vanno fatti 9-10 passaggi. Mettetevi davanti a uno specchio per osservarvi e controllare la posizione della pietra durante il massaggio. Giriamo la pietra dalla parte convessa e usiamola sotto il viso, dal mento verso le orecchie. Grazie a tutti. Usiamo la parte di pietra dove c'è l'insenatura a cuore sulla mandibola. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ruotiamo la pietra dalla parte convessa. Dalla parte concava facciamo passare la pietra da sotto l'occhio verso la tempia. Adesso esercitiamo una pressione inferiore, essendo una zona molto delicata, e procediamo più lentamente per controllare meglio il movimento. continuiamo a far passare la pietra da sotto il sopracciglio verso la fine della fronte. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Procediamo con l'altra metà del viso nello stesso modo. Grazie a tutti. 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 Adesso concentriamoci sulla zona intorno alla bocca. Dalla parte dell'insenatura a cuore facciamo scorrere la pietra sul labbro inferiore. E adesso sul labbro superiore. Per correggere e prevenire le rughe del sorriso, usiamola dalla parte concava facendola scorrere da sotto la bocca vicino al naso. Grazie a tutti. Abbiamo finito. Il viso va lavato con un detergente adatto al vostro tipo di pelle. Io uso un latte detergente avendo una pelle delicata che si secca facilmente. E poi va applicata la crema idratante abituale. La pietra va pulita con un panno morbido e imbevuto di alcol. Grazie per aver guardato questo video, lasciami un like se ti è stato utile e iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto. Ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. Ciao!